Per l'angolo dell'arte, un saluto dal vostro Vittorio Sgarbi. Stiamo ascoltando adesso questa canzone, la sentite sicuramente, Forever Young e degli Alphaville. Adesso voi vi starete chiedendo cosa c'entra Forever Young e questa canzone con Vittorio Sgarbi. Ho ritrovato la giovinezza da quando frequento Paola, la mia assistente. Sono tornato bambino, sono tornato ragazzino. Prendo la vita più allegamente di come la prendevo prima. Tra l'altro, questa settimana c'è stata anche una fake news che ho subito. Sono stato accusato di essere un falsario, di aver diffuso, di aver venduto opere d'arte false. Capre, capre, rane, struzzi, andate tutti a cagare. Non ho venduto nessuna opera falsa. Ho voluto fare un'opera di beneficenza per tutti coloro che non hanno la possibilità di avere a casa un quadro. Ad esempio un quadro di Rigabue. Oppure questo quadro qua. Adesso ve lo faccio vedere. Questo quadro qua. Un quadro del 1993. 93, anzi 96, perché il numero non si vede bene. Di Luis Ankel Braavos. Questo pittore andaluso, classe 2 novembre 1934. che ha rappresentato questa modella nordica, che sembra che stia dormendo. Adesso ve la rinquadro. Eccola qua. Sembra che stia dormendo. Ma in realtà lo sta dormendo, sta pensando. Pertanto non sono un falsario. Ho voluto soltanto diffondere l'arte verso coloro che non possono permettersi di avere a casa un quadro. Siete liberi di credere o di non credere in quello che dico. Ma una cosa ve la posso dire. Andate tutti a cagare! Capri! Capri ignoranti!